La strada che dobbiamo percorrere è ben tracciata, ora bisogna vedere quanto tempo passerà per tornare lassù. Non è facile, rischieremo ancora di più quest'anno perché abbiamo ringiovani continuamente, specialmente i ruoli fondamentali. È giusto così perché le nostre ragazzine che quest'anno hanno vinto il campionato Under 15, è giusto che si godano questo palcoscenico con i rischi che ne derivano, però è più vero che se non giocano da protagonisti non cresceranno mai. Per cui sarà difficile, sarà dura, combatteremo ogni partita, alcune partite magari saranno al di là della nostra possibilità, però siamo felici. Vorrei rivedere la scontatezza e il divertimento quasi a stupire e la voglia di stupire perché abbiamo quasi più, ci hanno dato per spacciate, invece abbiamo fatto un gran campionato. Quest'anno sarà più difficile perché confermarsi è sicuramente più difficile, nessuno ci prenderà più sotto gamba come effettivamente è successo l'anno passato, per cui quest'anno sarà decisamente molto più difficile. Cosa non voglio rivedere, a volte ci siamo piaciute troppo, nel senso che a volte abbiamo un po' pensato più a... dovremmo essere diventare più ciniche, quello sicuramente.